Quaderni Aperti è il nome di una associazione culturale che opera nel territorio milanese ma che ha una rilevanza nazionale, anzi direi internazionale. Dell'attività di questa curiosa associazione, ripeto Quaderni Aperti, parliamo con Thomas Pololi che è l'ideatore di questo progetto, lo aveva inventato nel 2004, il progetto va avanti dal 2004 ma si è anche evoluto nel corso di più di 15 anni. Allora senta Pololi, prima domanda, nel 2004 abbiamo detto nasce Quaderni Aperti, quando è nato questo progetto lei che cosa aveva in mente, cosa voleva fare? Originariamente il progetto appunto era nato da una curiosità, da un interesse verso la scrittura infantile che però nel corso degli anni si è evoluto e si è ramificato diciamo e quindi è andato poi a incrociare ovviamente il mondo della della pedagogia, della storia, dell'infanzia, anche della psicologia infantile, della calligrafia, insomma tutte quelle cose che si trovano all'interno di un materiale di questo tipo e che possono essere interessanti per persone che si occupano di varie discipline. Questo vuol dire che lei nel 2004 ha iniziato a fare una sua ricerca utilizzando testi, quaderni di bambini e così, per studiare la scrittura infantile. Sì, non si trattava tanto di studio quanto di desiderio di fare emergere quel tipo di scrittura e quindi dal momento che il mio background è quello della comunicazione, della della scrittura, anche dell'ideazione di progetti diciamo tra virgolette artistici, l'idea era raccogliere materiale da diffondere attraverso un blog sulla rete e poi e poi appunto nel corso degli anni, anche grazie al fatto che questo blog ha ricevuto diverse attenzioni, siamo entrati in contatto con realtà che erano interessate a questo materiale per altri motivi, diciamo, oltre a quello dell'analisi, della scrittura e dell'aspetto più puramente letterario. Che tipo di materiali avete raccolto in questi 15 anni e più di lavoro? Principalmente diciamo al 95% quaderni scolastici, in gran parte quaderni di materie umanistiche e quaderni contenenti temi scolastici o cronache di bambini che sono il materiale che ci interessa maggiormente perché appunto è quello da cui chiaramente attraverso una lettura ragionata che riesca anche a comprendere e a diciamo quali sono i filtri che si trovano poi tra la voce del bambino e quello che si trova poi scritto dentro un quaderno, dal pensiero del bambino che si trova scritto dentro il quaderno, però è il tipo di materiale che permette il più possibile di avvicinarsi appunto a questa utopica voce dei bambini che a noi piace continuare a cercare, diciamo, dei bambini poi del passato soprattutto. a quali periodi, a quale passato si riferiscono i materiali che voi avete raccolto e che sono disponibili presso la vostra sede a Milano? Allora faccio una divisione tra il materiale italiano e quello internazionale perché sono due collezioni un po' diverse anche come quantità di materiale, diciamo. Il materiale italiano sono circa 1500 quaderni e i più antichi sono della fine dell'ottocento, se non sbaglio 1870, i più recenti sono invece degli anni 90, degli anni 90 se non sbaglio, metà anni 90. Mentre invece c'è poi la collezione internazionale che sono se non sbaglio 35-36 paesi, adesso non ricordo esattamente, quindi una collezione molto più ampia geograficamente ma poi chiaramente di ogni paese abbiamo solo una piccola selezione di materiale. Prendendo tutta la collezione il più antico quaderno che abbiamo risale al 1770 se non sbaglio, un quaderno britannico, il più recente è un quaderno del Ghana del 2002. Ecco veniamo ai materiali italiani, abbiamo detto che avete materiali addirittura di fine ottocento e poi molto materiale del novecento e tutto questo materiale è disponibile presso la vostra sede, voi periodicamente organizzate anche delle attività, delle mostre per far conoscere al pubblico il materiale che voi avete a disposizione, è così? Sì, assolutamente, abbiamo realizzato una mostra abbastanza grande a Milano nel 2015 che è stata aperta due settimane però in due settimane ha avuto quasi 1500 visitatori quindi il risultato è stato molto buono dal nostro punto di vista, abbiamo realizzato altre mostre più specifiche in collaborazione con l'Ampi quindi sul periodo del regime fascista e con il FAI e l'Associazione Calligrafica Italiana invece una mostra in cui si metteva in evidenza soprattutto l'aspetto della grafia, della scrittura proprio in senso materiale che si trova all'interno dei quaderni e poi soprattutto svolgiamo una quotidiana attività di divulgazione online attraverso attraverso i social sia verso l'Italia che verso l'estero. Senta voi avete realizzato anche una piccola collana di quaderni, ne sono usciti quattro, il vostro progetto prevedeva dieci uscite, poi ne sono arrivati quattro però decisamente curiosi e interessanti, di che cosa si tratta? ce lo vuole raccontare? Sì, l'idea era nata da un contatto con una cartiera alla quale avevamo proposto di realizzare dei quaderni che fossero venduti nelle cartolerie, nelle librie e che però al loro interno avessero dei contenuti di quaderni invece storici, quindi portare i contenuti dei quaderni del passato nei quaderni di oggi, ci sembrava molto interessante perché appunto l'idea che un bambino nel presente potesse aprire un quaderno e trovare al suo interno alcuni contenuti scritti da bambini del passato ci piaceva anche proprio come idea poetica quasi e quindi abbiamo fatto questa proposta e è stata accolta favorevolmente e abbiamo avviato diciamo la produzione cioè la cartiera ha avviato la produzione dei primi quattro quaderni che sono stati distribuiti in circa diecimila copie nel corso di due tre anni e e poi purtroppo il progetto si è interrotto per motivi diciamo di sostenibilità economica perché evidentemente non era abbastanza profittevole però però comunque ci ha portato anche a diversi contatti di persone che vedendo trovando in cartoli questi quaderni ci hanno poi contattato per prestare o donare il proprio materiale quindi ci ha aiutato anche molto ad arricchire ulteriormente la collezione senta e per il prossimo anno scolastico voi che progetti avete che programmi avete c'è qualche cosa di particolare che avete in mente che volete realizzare è una bella domanda perché è tutto ancora avvolto nel mistero e quindi anche anche i nostri progetti sono ancora incerti non sappiamo bene cosa mettere in campo noi prima della pandemia avevamo proprio in programma nel 2020 di fare di realizzare una serie di laboratori nelle scuole che avevamo già realizzato nel 2000 negli anni precedenti diciamo come progetto pilota per ne abbiamo realizzate due tipologie un progetto diciamo che prevedeva di selezionare i quaderni di un solo una sola persona di un solo autore diciamo di quaderni e portarli all'interno di alcune classi e poi organizzare degli incontri di persona tra l'ex bambino tra virgolette o ex bambina e i bambini di oggi mentre un altro progetto più diciamo che si svolge in un solo incontro prevedeva invece dei percorsi dei percorsi storici a partire dalle testimonianze scritte dai bambini all'interno dei quaderni purtroppo entrambi questi progetti sono momentaneamente in pausa speriamo di poterli riprendere presto nel frattempo abbiamo realizzato abbiamo messo a disposizione una lezione realizzata in collaborazione con alcuni ricercatori dell'università cattolica una lezione digitale sul novecento sempre parte che a partire proprio dai da alcune testimonianze alcuni contenuti dei quaderni ripercorre la storia del novecento un'elezione per le classi quarta quinta primarie forse per le prime classi delle secondarie anteriori perché chiaramente ogni insegnante può usarlo a seconda delle sue esigenze abbiamo messo a disposizione gratuitamente quindi quella si può trovare online sul nostro sito e inoltre abbiamo realizzato dei podcast con due storici della pedagogia che sono la professoressa maria cristina morandini dell'università degli studi di torino e il professor iuri med dell'università di macerata che praticamente raccontano le vacanze dei bambini del passato partendo proprio da alcuni diari delle vacanze di fatto che però era scritti all'interno sempre dei quaderni che avevamo in archivio bene ringraziamo thomas pololi per questa simpatica chiacchierata auguriamo quanto di meglio possibile a questa associazione perché ci sembra che stia facendo un lavoro di sicuro interesse per la scuola e anche per i bambini per i ragazzi perché poi tutto sommato come dire avere una avere delle collezioni che documentano la nostra storia passata la storia dei nostri bambini è sicuramente una cosa di grande interesse e anche di grande utilità peraltro anche un lavoro che da quanto vediamo ha dei riconoscimenti anche a livello scientifico perché avete collaborazioni anche con alcune università quindi non è un lavoro puramente dilettantesco cioè voi non siete dei professionisti però comunque avete rapporti con professionisti che possono ricavare dei dati importanti dal materiale che voi state raccogliendo quindi davvero molti auguri per questo lavoro grazie ancora grazie mille lei grazie a tutti